se riscontri problemi di crash sul gioco silent il 2 remake sul computer in questo caso se l'hai comprato e ci stai giocando e ti esce tipo un errore riguardo al crash process una cosa del genere sulla real engine è possibile risolvere il problema andando direttamente su nvidia quindi di driver di nvidia e abbiamo anche quelli di amd ovviamente se tu aggiorni i driver della tua scheda grafica non avrai più problemi su questi problemi di crash al real engine quindi vai direttamente a scaricare un software quindi driver grafico per la tua scheda video ovviamente vai così a inserire la tua scheda video metti la tua scheda video metto la mia serie 30 30 70 sistema operativo trova e vado così a scaricare questo driver grafico per la mia scheda video io non riscontro questo problema quindi non l'ho mai avuto perché io tengo sempre aggiornato i driver della mia scheda video e driver su windows quindi driver geforce game ready e drive nvidia studio questo è per chi usa il computer per lavorare questo invece per chi lo usa per giocare trova scarica e installa così il driver grafico se invece vuoi un programma per aggiornare sempre la scheda ti consiglio driver così nvidia app scarichi installi così la beta vai su nvidia app ed eccolo qua vado su driver cerco così driver da scaricare e installare e basta e poi riavvio il computer per i metti invece abbiamo i driver support per processori e grafico quindi vai così a scegliere la tua scheda video rx oppure hai una serie 5.000 6.000 7.000 5.000 5.600 xd trova così la tua scheda video windows 64 bit edition ed eccolo qua 726 megabyte è un programma come nvidia app che si chiama amd adrenalin edition quindi amd adrenalin edition ed eccolo qua scarichi installi così il software per tenere sempre la scheda aggiornata oppure tasto destro su start gestione dispositivi schede video la tua scheda video aggiornata driver cercare nel computer cerchiamo così da un elenco di driver ed eccolo qua vai avanti e scarica così il driver per il modello quindi scarica così questo modello qua una volta fatto non ci resta che fare tasto destro sul gioco mostra attropazioni proprietà compatibilità disabilità attimitazione schermo intero e segui questo programma come amministratore e faccio ok una volta fatto non mi resta che avviarlo l'errore può essere anche per via dell'insufficiente ventilazione oppure per il problema che si suriscalda la scheda oppure per i driver obsoleti che hai nel computer quindi non riescono a far girare bene il gioco tutto sistema operativo quindi andiamo su impostazioni display e grafica modalità schermo senza boll applica modifiche allo schermo facciamo modifica una volta fatto vado direttamente su ray tracing se in caso giochi con il ray tracing attivo metti disattivato un singe mettilo disattivato perché gli fps sono poi illimitati qualità avanzata scalabilità risoluzione tienila su 75 shader bassa effetti bassa riflesso lente bassa questo qua lo metti su off qualità sss metterlo su bassa e bassa nitidezza alta e metti nitidezza media qualità ombre se vuoi lo puoi tenere su media oppure basso e lo tengo su media texture la tengo su media e basta e tengo così queste impostazioni per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao